Che cos'è la permuta e come può aiutare un investitore immobiliare? Allora ragazzi, può capitare che voi fate per esempio una proposta. Vi faccio un esempio. Trovate un appartamento da 300 metri quadri e fate una proposta, faccio un esempio, a 2.000 euro al metro. Quindi voi fate una proposta per 600.000 euro. Al proprietario non gli sta bene perché gli dice no, per me non vale 2.000 euro al metro ma vale di più. 2.500, 3.000, eccetera. A questo punto voi potete fare ad esempio una proposta più alta ma senza sganciare tutti i soldi. Come si fa? Con la permuta. Che cos'è la permuta? Come ho detto prima, stiamo parlando di 300 metri quadri. Quindi ipotizziamo che da questi 300 metri quadri io riesco a ricavare 6 appartamenti. Quindi possono essere ad esempio 6 bilocali. Adesso voglio stare molto lineare in maniera tale che voi capite meglio qual è il concetto. Chiaramente io per fare questi appartamenti devo fare la ristrutturazione. Dovrei comprandolo intestarmi l'immobile, quindi pagare chiaramente tutta una serie di costi, notaio, imposta di registro e via dicendo. A questo punto magari il proprietario vuole tenersi, ipotizziamo, una porzione di questo pezzo. Quanto è una porzione di questo pezzo magari a lui interessano, guardate a caso, 150 metri quadri. Quindi che cosa succede? Che se io mi metto d'accordo con lui e lui si tiene i suoi 150 metri quadri, ma lui si ritiene al costo che voleva da me. Quindi vi ricordate che lui si aspettava 3.000 euro al metro, non 2.000. Quindi lui si tiene il suo pezzo a quella cifra. È chiaro che poi io vado a montarli sopra il prezzo della ristrutturazione. Che guardate a caso, probabilmente io gli posso anche dare un prezzo superiore rispetto a quanto costa me, perché chiaramente io sono un investitore e ho dei prezzi che sono diversi. Quindi questa cosa mi permette di anticipare meno soldi, tenermi comunque 150 metri quadri e pagargli la cifra che volevo io, o a volte addirittura di meno. Quindi uno sborso più piccolo per quanto riguarda i capitali, quindi può capitare più volte, io l'ho fatto diverse volte, un giochino di questo tipo, che si tiene magari 1, 2, 3 appartamenti e via dicendo. Quindi questa tecnica vi permette di sfruttare la leva del proprietario, e andare a fare la vostra operazione di trading immobiliare. Ci vediamo alla prossima, ciao!